Vorrei far visitare Simone, due anni. Il fratellino ha appena avuto la varicella, da stamani anche lui ha bollicine su testa e collo. E se avesse preso la stessa malattia? Molto probabilmente sarà varicella, perché essendo il fratellino, vivendo insieme la malattia è contagiosa. Però finché il problema sono solo dei punti sulla pelle e non ci sono altri sintomi a rischio come febbre o difficoltà a respirare. Non è una visita che necessita il pronto soccorso, aspettiamo l'evoluzione. Se vengono fuori degli altri puntini mi ricontatta e magari daremo qualche goccia per far sentire meno prurito il bambino.